Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mario Cusitore, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Ida Platano, è tornato sotto i riflettori con una notizia che ha fatto scalpore, diventerà presto papà. Tuttavia, la verità dietro questa notizia è ben diversa da quanto si possa pensare. Le voci che circolano riguardo alla presunta gravidanza della donna più bella di Mediaset, che si dice essere proprio Ida Platano, sono state smentite. Si tratta infatti di una fake news. Nonostante la delusione per i fan che speravano in una dolce attesa, c'è comunque una buona notizia per loro. Mario potrebbe fare il suo ritorno nel programma di Maria De Filippi a settembre, insieme a Ida. Questa possibilità ha già scatenato l'entusiasmo dei telespettatori, che non vedono l'ora di rivedere il simpatico napoletano sul trono over. Dopo essere stato protagonista di un'emozionante storia d'amore durante l'ultima stagione di Uomini e Donne, Mario potrebbe regalare ancora una volta momenti intensi e appassionanti ai suoi fan. La sua simpatia e il suo carisma hanno conquistato il pubblico, che non vede l'ora di seguirlo nelle sue nuove avventure televisive. Insomma, se da una parte la notizia della presunta paternità addestato scalpore, dall'altra la possibilità di rivedere Mario Cusitore sul piccolo schermo ha fatto felici molti appassionati del programma. Resta solo da attendere settembre per scoprire cosa riserverà il futuro al simpatico napoletano e alla sua stagione.